In teoria dovrebbero essere quelle che c'è blocco Stai in diretta? Se vedete qualcosa di strano Una volta ti mette in pausa pubblicitaria Però non fa più quella cosa che ti blocca la diretta Blocca proprio la diretta Che mette in pausa pubblicitaria a due secondi e poi riporta Ah però c'era solo... Ma perché i tormentori di 2024 che stanno... Come si sono vecchi? Questi sono messaggi, devi farci un certo Ma sono vecchi? Volevo... Vediamo questa cosia No, la pubblicità no Questo è tutto loce la pubblicità No ma questa mi fa sentire anche l'altra Mamma mia Giulia Ah però... Ah 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 è una sicurezza è una sorpresa è quello no? non va di cicciare il dito ciccio il dito, però, eh? è fatto il dito è la ciccioccia il dito che non fuma da potere non sa che fare ma non mi arriva innessa no, no, no anche la sugars più che disegna la ponde? che ci ci؟ ci ci vuole? va 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 Ah, questo ti va di qua, Sistè? Non puoi tirare la carta, per favore? E le cartoncino, puzza, non ve la faccio staccata. Spatola. Spatoletta mia, non lo faccio staccata. Mia mi bloccherà pure con questo, no? E' probabile, no? Ciao, Grin. No, questa è una prega. Come questa cosa? Che fai toccato? Fai toccato? Ah, non toccato? Stai toccato? Stai toccato, guardia. C'è panza... ahahah beh, ti sapete che c'è dei pantaloni che meravigliosi vabbè, lui la so turchese dai, dai, quelli so carini sono celesti turchese? turchese dai, so carini ma c'è i tre borsellati che si abbivano giusto dai, te lo vado ma che è merito celeste? ma io ho un grigio trasparente ma io lo vado a me ma non bello ma quanti una terassini sta bruciando ma non li ho fissi bruciando guardate che hai sempre tagliato il saltello ozzurri così ma mi tizzi in acqua mi sbaglio pure, cascolino ma perchè glielo dai a loro ahahahahah qua, ti arriva e si appoggia è bellissimo mannaggia, però non è trasparente non fai qua, va se no mi rendo più l'otturo Stefano, Antonella ti vuole vedere forza cosa rifare? rifare che? scusate sono vecchio ma faici rifare gli occhi con Stefano non c'è il Puffi fatti vedere saluta maleducato Capino ma dov'hai questo materassino? noi Puffi siamo così non siamo Puffi sarà un poco più il Tissino ha detto Stefano tieni le mani a posto oh c'è ragione aspetta basta che sto leggendo i messaggi qui e qua ah ok ciao ragazze buon pomeriggio ma siamo fermi a venti adesso io come al solio e sto bloccata niente proprio ma perchè a me non mi deve funzionare sta cosa? perchè io sto antipatica? infatti è antipatica lui perchè se è più il mio suo mica è mio eh adesso sempre ah bella pure questa che farine che se ne sento proprio anziana non ti senti anziana pure tu? lei ma che conosce? bello dai 46 mi dicono no no siamo venti no profilo mio siamo venti ma fino alle sette eh niente proprio non mi si sposta ecco Caccia Cacioppo o Katia per gli amici insomma ah ma che si ciao Katia o Katia vabbè ciao Ina ciao ragazze ciao no no io sto sempre a venti persone niente non mi schioto da là ah si 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 cosa? Katia eccola l'ho vista chi è che sta in moto? la pizzerà franca ciao ragazze niente io esco rientro ciao Katia benvenuta che sto svegliata ora? un'altra Katia Katia Greppi ha detto ciao siamo nuova eh ha capito avevamo già peccati e ora tutta così non avevo capito niente 20 persone ah ecco fermate noi siamo 53 è sempre indietro io però non beh ci rinuncio guarda ciao Rossella eh tra un pochino iniziamo benvenuta anche a te no io spengo e basta perché mi sono stancata questa cosa che non mi il contapersone a me non funziona vi ammiro con questo caldo fatele dirette guarda solidea non ne parliamo non ne parliamo no 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 abbiamo i condizionatori accesi 24 ore su 24 non lo so guarda veramente infernale questi giorni ma penso che un po' ovunque poi no? comunque ragazze buon pomeriggio ben ritrovate sì vi confesso che questo periodo è dura veramente cioè lavorare così è bella bella tosta insomma allora ragazzi intanto vorrei cominciare con il dirvi che eh lavoriamo ancora tutta questa settimana e la prossima settimana poi saremo chiusi dall'11 al 25 da domenica 11 a domenica 25 saremo chiusi per 15 giorni quindi ragazze questa settimana è tutto normale super sconti eccetera ma lavoriamo in modo normale la prossima settimana ragazze faremo le dirette tutti i pomeriggi lunedì martedì mercoledì e giovedì pomeriggio per un paio d'ore ogni pomeriggio cercando di non esagerare perché veramente è tosta questo periodo lavorare così con questo caldo così eh faremo quattro dirette la prossima settimana ma ragazze saranno delle dirette delle dirette particolari perché particolari perché non creeremo abbinamenti outfit eccetera ma faremo un vero e proprio svuoto negozio cioè noi vogliamo chiudere eh sabato 10 agosto con il negozio completamente vuoto quindi tutto a 5 10 massimo massimo 14 15 euro su proprio abiti lunghi vestiti eccetera ragazze super scontati ma ciò non togli che anche questa settimana ci abbiamo tutto in sconto eh sono arrivati tantissime occasioni anche questa settimana veramente tutto super scontato però questa settimana continuiamo a prendere gli ordini eccetera tutto normale la settimana prossima invece è una settimana dove non pubblicheremo le foto lavoreremo solo ed esclusivamente con quello che abbiamo all'interno del negozio quindi solo tramite le dirette di che andranno in onda di pomeriggio lunedì martedì mercoledì giovedì pomeriggio per la prossima settimana comunque poi pubblicheremo tutto gli avvisi eh eccetera le pubblicità eh per farvi capire un po' come sarà tutto il funzionamento allora intanto vado con le informazioni di servizio così partiamo anche oggi cerchiamo di non allungarci troppo perché veramente ragazze un po' la stanchezza dell'anno eh lavorativo che insomma sulle spalle un po' questo grande caldo questa afa e non ci fa lavorare bene siamo molto stanchi quindi cerchiamo di ridurre un pochino le dirette ma magari ecco cercare di accelerare un pochino allora intanto vado con le informazioni per chi ovviamente non ci conosce per chi magari oggi si collega per la prima volta noi siamo il gruppo di morbidi passi io sono Silvia dietro gli schermi c'è mio fratello Stefano c'è Maira c'è Tiziana insomma questo gruppo si occupa di abbigliamento donna soprattutto donna grande dalla 46 48 in su in realtà abbiamo anche le taglie più piccine facciamo spedizione ovunque sia in Italia sia all'estero ma potete venirci a trovare anche in negozio ci trovate ad Aprilia in provincia di Latina vicino Roma siamo aperti anche durante le diciamo durante le dirette tra l'altro allora questa settimana le dirette continuano ad essere con il solito orario quindi martedì oggi e giovedì di pomeriggio alle 16 e 30 domani sera che è mercoledì alle 16 e alle 20 e 30 quindi dopo cena ok quindi oggi è giovedì di pomeriggio domani sera alle 20 e 30 attenzione per acquistare nelle dirette dovete essere o già clienti oppure vi dovete registrare la registrazione è una stupidaggine basta che ci inviate e inviate un messaggino a questo numero whatsapp ci scrivete il vostro nome e cognome ed eventualmente anche quello dei social se è un alias insomma un nome inventato e potete comprare anche nelle dirette altrimenti se non avete modo di seguirle potete acquistare tramite le foto che pubblichiamo tutte le settimane sui vari canali social quindi prendete le foto degli articoli che vi interessano ce le inviate sempre a questo numero whatsapp e noi possiamo prendere anche l'ordine direttamente da lì per quanto riguarda invece il costo di spedizione allora a prescindere che la spedizione è sempre gratuita dai 50 euro di ordine in su quindi dai 50 in su non pagate nulla al di sotto invece 6 euro con ricarica post pay bonifico e paypal oppure 8 euro con pagamento alla consegna ma attenzione ragazze due piccole annotazioni la prima non accettiamo il pagamento alla consegna per le nuove amiche finchè non ci si conosce diciamo finchè non passano i primi ordini non accettiamo il pagamento alla consegna secondo stiamo comunque comunque chiedendo in questo periodo di saldo in questo periodo di forti sconti soprattutto a ridosso delle chiusure per le ferie di cercare di fare il pagamento anticipato cercare di evitare il più possibile il pagamento alla consegna proprio perché tra un pochino chiudiamo insomma ci crea qualche problemino ultima cosa e chiudo noi siamo organizzati in questa maniera da lunedì fino alla fine della settimana prendiamo tutti gli ordini quindi sia tramite le dirette sia tramite le foto su whatsapp quando arriviamo a venerdì e sabato noi facciamo la chiusura dei pacchi quindi voi potete accumulare articoli per tutta la settimana a fine settimana si chiudono i pacchi completamente avete preso un parco un pezzo o dieci articoli a noi non fa differenza si chiudono i pacchi della settimana ok? se ci ripensate su un articolo che volete cambiarlo sostituirlo eccetera ditecelo il giorno stesso che avete prenotato quell'articolo mi raccomando ragazze non aspettate fine settimana e ultima cosa e giuro che chiudo dal momento della chiusura del pacco a fine settimana entro uno massimo due giorni ci deve arrivare il pagamento per poter far partire i pacchi mi raccomando ok? ah una cosa la settimana prossima però poi questo ve ne parlerò la settimana prossima chiaramente i pagamenti devono arrivare entro e non oltre le 12 del sabato 10 agosto voi direte perché? semplicemente perché noi a luna chiudiamo per ferie e ci rivediamo il 26 agosto quindi ragazze cercate di tenere in considerazione questa situazione della prossima settimana è una situazione insomma che capita una volta all'anno però chiaramente qualcosa cambia in questo periodo detto ciò io ho finito scusate le tante parole però a me piace spiegare sempre tutto preciso un po' come funziona in modo da non avere sorprese insomma allora che dite cominciamo? vado con il primo outfit benissimo allora ragazzi partiamo subito con il primo outfit e partiamo subito con un articolo che è un fine serie ok? fine serie ragazze una casacchina che voi conoscete benissimo allora ragazze sono completamente fin non me le metto tutte ma se servono se no... si allora dicevo ragazze partiamo subito con un completo la roba arriva dopo il 26 no Antonella per chi paga entro la settimana prossima a mezzogiorno i pacchi partono tutti tra l'altro il nostro corriere continua a lavorare però chiaramente se non riceviamo il pagamento non possiamo far partire il pacco quindi entro sabato a mezzogiorno del 10 agosto ovviamente tutti i pacchi devono essere pagati quelli che non vengono pagati chiaramente non partiranno ma verranno anche sballati perché poi io quando rientro il 26 agosto non è che mi metto a pensare ai pacchi del assolutamente no insomma è un periodo particolare andare a fare una ricarica a un tabacchio purè ci vuole un secondo allora ragazze vado subito primo outfit casacca casacca ragazze carinissima la conoscete favolosa in maglina pensate ragazze che questa settimana addirittura è a soli 9,90 euro ne abbiamo due verdi militari tre pezzi fucse e qualche pezzo in più rosso ragazze qui la vestibilità è stracomoda ripeto super scontato a 9,90 euro vi dico subito le misure e poi vi faccio vedere anche il pantalone perché pure il pantalone in maglina stracomodo ma soprattutto c'è questo colore marrone bruciato che è difficilissimo da trovare una fucse e una rossa eccoli per te antonella sguizer rossa benissimo ti conviene prenderla elvira persico rossa rossa per rosalba rossi dimmi se vado veloce ti anna rita fallo rossa bellissimo rossa allora ragazze al momento sono ultimi 5 pezzi rossi brunella ha scritto rosse e verde ma lei già gliene abbiamo data una rosse e verde già gliene abbiamo data si fatto brunella ragazze vi raccomando non scrivete due volte se no ci fate confusione a parte che probabilmente è risalito il messaggio allora ragazze ultimi 5 pezzi rossi ultime due fucsia e una soltanto verde militare vi ricordo che la vestibilità è fino alla taglia 58-60 e questa settimana sono super promozione perché costano 9,90 euro 140-180 di seno oltre 180-190 fianchi e una lunghezza di 78 ok? ragazze 5 rosse due fucsia e una verde militare 9,90 euro intanto volevo però mostrarvi il pantalone ragazze il pantalone è meraviglioso è un pantalone a palazzo in maglina di viscosa super comodo no no brunella t'ho letto subito stranamente funzionava Rosaria Berardi è nostra? chi? Berardi Rosaria oddio mi sembra di sì però Berardi Rosaria no 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 non ce l'ho la signora Berardi Rosaria eh si deve registrare eh si deve registrare signora Berardi Rosaria a meno che eh no Nicoletta si vuole il pantalone di scotto si questo qui ok allora 9,90 euro pantaloni in maglina ragazze favoloso super comodo da 80-160 di vita 140-190 lunghezza solo 3 coloni addirittura ciclamino ne ho uno solo marrone bruciato che è un colore difficile da trovare voi lo sapete bene ne ho solo 5 pezzi e 5 pezzi biscotto ragazze 9,90 euro ripeto da 80-160 di vita 140-190 fianchi lunghezza 102 ragazze è in maglina stra comodo Antonella Savoia marrone grazie Anto grazie ragazzi allora biscotto ragazze se potete prendeteli marrone biscotto per Maria Rita Purco benissimo eccolo ragazze ciclamino ne ho uno solo biscotto e marrone per Giacomo Donato va benissimo eccolo per voi per oddio mi scusa il nome Anna scusami Anna ogni tanto i nomi allora ragazze ho solo 4 beige o biscotto come preferite 2 marroni e uno ciclamino diviti si signora spediamo ma non ci deve dire che lei è della Puglia si deve registrare al nostro numero dietro di Silvia ragazze questo numero che vedete qua è il nostro whatsapp scrivete lì il vostro nome e cognome non è che scrivete solo ciao scrivete nome e cognome in modo che vi riconosciamo se lei si registra le mandiamo tutte le informazioni allora imma spagnola non riesce a connettersi ecco ora ho girato il link della dire allora madonna già mi si è scaldata l'acqua 10 minuti allora ragazze ripeto il pantalone in maglina modello palazzo bello grande stra comodo 80 160 di vita 140 190 fianchi lunghezza 102 ragazze gli ultimi 4 pezzi beige gli ultimi 2 marrone bruciato e addirittura l'ultimo ciclamino 9,90 e vi ricordo che chi si sta collegando ora la nostra maxi maglia con l'incrocio dietro ultimi pezzi della stagione scontata anche questa a 9,90 euro allora signora patrizia mi dica chi è perché solo col nome così non la riconosco ragazze qui ne ho due fucsia uno verde militare e diversi pezzi rossi 9,90 euro 140 180 di seno oltre 180 190 fianchi lunghezza 78 stagioni fucsia 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 per vale ok ma la maglia oddio vale dimmi se è la maglia o il pantalone che ne ho uno fucsia allora io qui c'ho una nuova registrazione Katia che greppi si è su facebook però in grami rossa no sempre la maglia e aspetta perché mo mi si è messa così perfetto va benissimo da antonio patrizia si è nostra si patrizia e che devo fare però non lo so voleva delle importazioni ma guarda voleva lo sa che voleva avere le prime maglie patrizia d'antonio ah di apostrofontonio giusto ok e che devo fare devo greppi catia si è registrata ecco ho scritto tutto eccole qui alla prima maglia dietro è incrociata spallina aperta 9,90 euro rossa diversi pezzi una soltanto verde militare e una fucsia ultimi pezzi della stagione scontati a 9,90 euro ultimi pantaloni palazzo biscotto uno fucsia due maloni fucsia la prende anche verde va bene quindi verde non c'è più a posto finite ragazze oh ma no che ho fatto qua allora aspetta l'ho trovato ce l'ho fatta sono uscita e rientrata 30 volte d'antonio patrizia sì rossa e fucsia la casacca rossa e fucsia benissimo eccola per te patrizia giusto eh sì ok giusto io non mi ricordo sempre i nomi di nat rossa di nat rossa ora sono rimaste solo queste rosse eh fatto che poi guarda Dina a testa sopra Manuela pensa un po' vabbè allora ragazze ultimi due pezzi rosse e finite la serie non sono più riassortibile non ce ne sono più in magazzino verranno ovviamente cancellate anche dai vari social eh vi ricordo gli ultimi pantaloni in maglina favolosi stracomodi 9 euro e 90 3 beige 1 fucsia e l'ultimo marrone 9 euro e 90 da 80 160 di vita 140 190 fianchi lunghezza 102 gliel'abbiamo dato a Maria Rita a Cristina sì sì biscotto e marrone l'abbiamo visti ragazzi noi sembra che adesso ci stanno ci appaiono Franca Beltrame marrone scuro eccolo per te Franca allora i marroni sono finiti stop Franca ha preso l'ultimo allora a me rimane ciao Natascha l'ultimo ciclamino ciao Chiara e gli ultimi tre pezzi allora signora Daniela Stinco non credo sia nostra vero? non la riconosco signora Daniela Stinco io non la conosco lei è registrata non credo per acquistare da noi in diretta la mia famiglia deve inviarci un messaggino a questo numero whatsapp scrivendo il suo nome e cognome a meno che non l'abbia fatto ora Maria Luisa sono nuova della Calabria Maria Luisa signora ma il cognome non è che coincide con qualcosa? no allora ma che si sta salutando da sola questa? ah no a Cristina che saluta ah oddio mi sembrava che si stava salutando da sola Chiara sai da te mi aspetto di tutto allora signora Daniela devi inviarci un messaggio su whatsapp altrimenti non possiamo prendere il suo ordine già fatto dice Daniela ma eh eh signora già fatto che significa? cioè non corrisponde eh signora Daniela Stinco come si chiama realmente? cioè eh che ne so io come faccio a capire? io non c'ho non c'ho una Daniela Stinco aspetta riproviamo magari è arrivata adesso Stinco io non c'ho nessuna Stinco Daniela forse si chiama in un'altra maniera signora Stinco Daniela se si chiama in un'altra maniera io però non posso capire chi è lei ci deve dare sia il nome che che usa sui social che è quello vero io mi sembra che assomiglia tanto a questa signora però non so se è Maria Luisa certo ragazze purtroppo se voi sui social vi chiamate in una maniera e di là in un'altra allora ah eccola adesso ho scritto il suo nome trovata perfetto allora che voleva la signora Daniela Stinco? aveva scritto la maglietta rossa perfetto trovata signora Daniela eccola che ti scrivo? no no si chiama così si era registrata prima della diretta ma non ho fatto in tempo a chiederle il nome e cognome quindi non sapevo potesse essere lei allora ragazze ultimi tre biscotto l'ultimo ciclamino e l'ultima casacca rossa tutto 9,90 ragazzi vado avanti se no qua ci fermiamo una settimana su un primo outfit allora ragazze ciao Anna sei sicura Chiare? allora ragazze continuiamo con un'altra novità questa volta canotta in raso elastico dietro spallina regolabile ragazze soltanto 9,90 euro super comoda taglie piuttosto grandi sì 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 ok va bene Landini Rossellati Anna io dimmi dimmi ma Perri vuole la rossa sì l'ultima ok eccola Anna l'ultima così abbiamo finito l'articolo allora ragazze di che cosa Daniela Stinco? allora ragazze vi dico subito prima aspettate le misure poi eventualmente ordinate ok? allora seno 140, 180 fianchi oltre 190 ragazze prima dovete sentire prezzi e misure dopodiché se pensate che vi va bene ordinate non fate il contrario mi raccomando allora detto ciò andiamo avanti quindi canotta in raso 9,90 euro ripeto elastico dietro spallina regolabile e poi gonna super carina in jeans fiori chiari questa settimana 18,90 la gonna 9,90 euro la canotta maria angela d'ambrosio e biscotto e top bianco raso va benissimo allora intanto eccolo qua sì maria angela lo so che sei registrata allora ragazze il top costa 9,90 euro le misure sono 110 140 di seno ragazze perché c'è l'elastico 150 fianchi lunghezza 76 ciao nausica ripeto 110 140 di seno perché c'è l'elastico dietro 150 fianchi lunghezza 76 intanto il bianco va a maria angela d'ambrosio si può ordinare ragazze le canotte di raso si possono ordinare poi rossa sabina grassi gonna blu e top bianco ragazze la gonna 18,90 da 80 134 di vita 140 170 fianchi lunghezza 96 ok intanto una va aiutami grazie sabina la canotta non ce l'hai no no la bianca no dobbiamo ordinarla allora ragazze vi faccio vedere i colori delle canotte così potete ordinare allora roberta tu hai ordinato marrone bruciato anche l'altra in privato te lo ricordi vuoi anche questa che è diversa allora rossa paola inglima vuole la conna ragazze le conne si possono ordinare se volete eh ci sono ancora in magazzino anche se in sconto rossa marrone gialla la bianca si ordina roberta dice che vuole anche questa eccola qua fatto robbie gialla panna panna pannarita fallo vuole la conna di gils ti eh un attimo allora spanna di lilla dimmi un po' di mano 27,990 allora blu poi nera guardate che bella anche ottanio grazie sabina bianca fucsia celeste e lilla ragazze anche marrone e bianca si possono ordinare la gonna chi la vuole annarita annarita fallo vuole la gonna i pantaloni non si possono no maria angela i pantaloni sono finiti solo quelli la quindi solo i due pezzi biscotto e uno ciclamino ciao nicoletta manuela raso panna in nera ce l'ho eh ma panna in nera per manuela ragazze 9,90 euro le camotte in raso ripeto elastico dietro super comode spallina come i reggiseni regolabile favolose 9,90 da 110 a 140 di seno 150 fianchi e una lunghezza di 76 ok allora ragazze vi faccio rivedere i colori lilla canotto a blu per paola e lilla eccola paola allora celeste villa fucsia ottaneo nera gialla e rossa 9,90 ordinabile marrone nera panna e blu scuro 9,90 ciao serena 9,90 ragazzi intanto vado avanti allora continuiamo blu marrone e nera per oriella montana allora nera che colore scusa allora blu e marrone vanno ordinate per oriella montana ti la nera ce l'ho Antonella invece la vuole Antonella sguizer la vuole o stagno ma ce l'ho aspetta che mi devi dire si ti oriella montana la vuole marrone e blu scuro ciao manu rossa per la carognetta mia domina chi è fatto manu la rossa ok ci siamo? voi avete qualcosina da aggiornare vedere se c'è qualcuno che ci siamo persi prima che vada avanti così cambio auto ragazze ultimi pezzi pezzi celeste lilla fuzia e giallo 9,90 ripeto 110 140 di seno 150 pianti lunghezza 76 allora ragazze fatemi andare avanti continuo con un altro stock di articoli attenzione ragazzi ultimi pezzi anche qua canotta ragazzi in maglina fiocchetto dietro pizzo color diciamo sulla spallina bella ampia ragazze 50 per cento di sconto parliamo di soli 9,90 euro ok soltanto blu elettrico ottaneo e nera allora 9,90 euro aspettate un attimo ragazze che mi sia smontata la nera allora dicevo eh vabbè ma questo è come dei cocchi allora dicevo ragazze soltanto tre colori 9,90 euro quindi nera eccola qua ottaneo scusate che ce l'ho raccontata no no giusta fiocchetto va dietro e blu elettrico allora 9,90 le visure sono 130 170 di seno vestono benissimo fianchi da 140 a oltre 180 lunghezza 77 soltanto tre colori blu elettrico ottaneo e nero il prezzo è di soli 9,90 euro no te lo giuro le sto odiando eh è come si smontano dalla stampella rossanna rossanna tutte e tre i colori bene intanto vedo questi che ce l'ho in mano così la smetto di evitare guarda ora come le topi cascano allora ehm nera per natascia parretti sto leggendo fatto natascia brunella ottaneo e nera eccole fatto ragazze allora blu elettrico ottaneo e nera nauseica nera e blu elettrica fatto ragazze nera ne è rimasta solo una vediamo chi la prende ultimi pezzi nera l'ultima rimasta poi due ottaneo e tre quattro pezzi blu elettrico ragazze soltanto 9,90 euro e anche questo fine serie poi non ci sono più ciao Teresa l'ultimo pezzo nero 9,90 euro con il pizzo e il laccetto dietro a schiena non si è vista ottaneo eccola allora adesso rimane l'ultima nera l'ultimo ottaneo e circa tre quattro pezzi blu elettrica strano blu che è la più carina ma allora ciao Anna ragazze 9,90 ripeto 130 170 di seno Maria Antonietta lì è nera si nera finite stop chi è? Maria Antonietta chi? Lisa Maria Antonietta? ok non ce l'hai fatta Cristel allora 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 mi rimane no quattro pezzi blu elettrica uno ottaneo ultimi pezzi capito capito ok allora ragazze vado avanti con il pantaloncino Cristel dice blu allora perfetto Cristel fatto allora ragazze andiamo con il pantaloncino ragazze questo è un pinocchietto favoloso parliamo di viscosa effetto seta molto leggero molto pratico da 80 a 134 di vita da 120 a 140 di fianchi la lunghezza è di 68 allora consigliate che noi questo lo vendevamo a 16,90 è sceso a 11,90 euro e siamo riusciti a trovare un po' di colori tra cui il rosso il grigio il blu elettrico due pezzi neri ragazze non posso ordinarli e poi beige jeans e l'ultimo bianco ah i blu elettrici sono due pezzi allora scusate ragazze due blu elettrici due neri un beige un jeans e uno bianco sono questi ragazze ripeto scontatissimi scontatissimi sono super leggeri è un pinocchietto sotto ginocchio vedete? ragazze sotto ginocchio in viscosa fresco fresco 11,90 euro 80 a 134 di vita 140 sui fianchi lunghezza 68 rosso grigio blu elettrico nero biscotto jeans e bianco aspettate un attimo allora ione spagnolo pinocchietto nero fatto provi a aggiornare un attimo io come ho aggiornato è arrivato allora ragazze ancora diversi colori 11,90 euro approfittate perché questi non sono ordinabili finiti questi non ce ne sono più e vi ricordo anche a 9,90 le canotte rimaste tre pezzi blu elettrico e un pezzo ottaneo ragazze gli ultimi allora vado proseguo ok allora aspetta che ma questa facciamo questi allora ragazze primo vestitino del pomeriggio ragazze bello lungo considerate guardate vi faccio finta come se ce l'avessi indosso mi arriva bello alla caviglia dettaglio qui carino particolare estivo qua come vedete si muove si regola Manuela Ruggero grigio fatto Manu eccolo per te allora il prezzo di questo abito lungo bello fresco leggero è di 14,90 euro ragazze stupendo allora vi dico solo che le misure sono da 150 a 170 di semo cade stramorbido 160 190 fianchi lunghezza 137 allora qui abbiamo prumia rosso verde militare biscotto che è cade stramorbido è vero dai c'è stramorto quello noi dopo la diretta ortagno e due pezzi veri ragazze 14,90 trasparente cosa Elvira che cosa l'abito direi proprio di no poi non ci sono neanche colori chiari che dici sai possa essere trasparente assolutamente no ragazze questo è carinissimo 14,90 bello leggero fatto Marielle l'abbiamo dato l'abbiamo dato tranquilla allora ma vi un attimo per crystal ce l'hai due burbi di questi due burbi sì ok allora crystal se sei in linea te l'abbiamo messita parte d'antonio nero nero eccolo ce l'ho in mano fatto ok allora prugna se mi vuoi dire le misure e l'ho appena detto 150 170 seno 160 190 fianchi lunghezza 137 meraviglioso ragazze veste benissimo comodo lungo fino alla caviglia 14,90 intanto il bira persico prugna aspetta un mio foglietto ragazze ne ho ancora uno con il nero uno ottavio uno biscotto io no io no verde militare e l'ultimo rosso ok ragazze eccoci qua non posso prendermi più di due adesso ok allora io intanto proseguo io manco uno allora ma vado con questo allora abito ottanio e nero per Maria Grazia ottanio e nero fatto per te Maria Grazia boaretto eh ti faticati non la conosciamo signora faticati ma lei è registrata? io non la ricordo faticati io non ce l'ho signora signora faticati io non la conosco deve prima mandarci un messaggio su whatsapp scrivendo il suo nome e cognome che so che sto scompidando il tuo spazio smetti la Giorgia Giorgia mamma mia cosa ha fatto? allora beh da un po' bocca pure a noi non lo scappavo a me tocca in via scarlatti eh sì perché tu a mare non ce vai oddio che sta a dire? andiamo di sera se andiamo di sera ci vengo prima stavo chiusa dentro casa eh mi sono uscita per io se vado al mare adesso mi ritrovate a settembre ancora lì andiamo verso le 6 ah sì? morta però ah vabbè quasi quasi allora ragazzi andiamo avanti anche qui fine serie due neri uno lila uno blu uno jeans e uno rosa acceso 9 euro e 90 casacchina barca vestibilità bella comoda e jeansetto super scontato a 15 euro e 90 parliamo di un jeans leggerissimo un cotone versione small e versione curvy adesso vi do le misure allora intanto 9 euro e 90 casacca barca guardate com'è bella ampia 130 150 di seno 140 160 fianchi lunghezza 75 barca rosa per crystal fatto crystal ragazze un pezzo jeans uno blu uno lilla e due neri ragazze sono gli ultimi non posso più riassortire anche qua quindi affrettatevi perché sono questi 5 pezzi in magazzino non ce n'è più lilla per Antonella Schweitzer fatto Anto due neri uno blu uno jeans metto in mezzo così se vedete Valenti blu Valenti blu Serena Antonetti non ce l'hai fatta con il blu se vuoi c'è nera o jeans nera per Maria Grazia di Comun ragazze ultimi due pezzi uno blu e jeans per Maria Rita perfetto ah no Maria Rita ti posso dare il jeans la vuoi blu che è l'ultima dimmi se la vuoi però è nera non è blu Maria Rita fammi sapere se la vuoi lo stesso te la do anche perché ancora non ha scritto nessuno non ti preoccupare Cristel ci ha scritto no si deve registrare ah ho messo Cristel vabbè me lo bevo uguale giramelo no non lo voglio ah allora che vuoi dammi nera ha detto Maria Rita perfetto finito stop ragazzi vado avanti con i jeans allora la versione piccola 80-120 di vita 110-140 fianchi lunghezza 95 ragazze jeans 1590 poi 80-140 di vita la versione curvi 120-154 fianchi lunghezza 97 ragazze in realtà sono in cotone effetto jeans vestono benissimo tutti e due sia versione small che curvi ragazze approfittate perché sono scontati a 15,90 euro Giuseppina Casciato jeans curvi questi si possono ordinare se eventualmente ce li chiedono ok benissimo allora ragazze 15,90 diteceli se volete ancora jeans curvi che è andato via oppure lo smuola qua c'è un altro vadacca jeans curvi celoti e adesso i curvi li dobbiamo ordinare se ce li chiedono small eccolo qua ragazze ancora per qualche giorno sono ordinabili dopodichè credo che anche questi in magazzino andranno a finire laura laura rocchi curvi te lo ordiniamo della 41 15,90 di nostra laura rocchi mi sembra di sì no laura perdonami sei nostra cliente hai ragione hai ragione noi ci abbiamo Anna Rita ah 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 ragazze però non non dovete ordinare se non siete eh se non siete registrate signora Sandra trova tutto sulle nostre pagine facebook instagram e tiktok in diretto abbiamo tutta una scaletta comunque vermuta grandi ci sono quella quella è un integratore allora signora laura rocchi deve registrarsi non è che la stessa persona no quella avrebbe non mi risulta allora ragazze l'ultimo pezzo intanto jeans versione small fino a 120 di vita fino a 140 fianchi lunghezza 95 prego di nulla signora Sandra eh per acquistare nelle nostre dirette dovete registrarvi se vi piace qualcosa inviate un messaggino al nostro numero whatsapp che è questo alle mie spalle scrivete il vostro nome e cognome noi vi risponderemo in tempo reale e a quel punto si può acquistare in diretta allora ma vado con questo e poi faccio quello perché non troppo vicino all'altra allora Luana Laura Rocchi si è appena registrato quindi c'ha il furbo ah ma Laura Rocchi è la signora di mh signora Laura Rocchi se me lo diceva che era lei è la signora che stava già ordinando prima della diretta ma non mi ha scritto il nome ah ok perfetto signora Laura però non deve ordinare ehm le cose che ha già connesso le cose che già mi ha chiesto in privato cioè se dovesse esserci qualcosa di quelle che mi ha scritto in privato eh non le ordini anche in diretta sennò poi ce l'ho doppie ok signora Laura 41 15 allora che gli dovevo dare Laura Rocchi ce l'ho io in ordine ah perfetto ok allora ragazze proseguiamo con maxi casacca ragazze carinissima apertura sulla spalla con perline questo dettaglio carino basta prezzo scontato 11,90 euro pantalone credo sia cotone ragazze vediamo un po' ci vedo no c'è viscosa c'è la stenne appena appena di poliestere prezzo 14,90 euro ragazze questi sono stracomodi stracomodi allora intanto andiamo con la casacca allora la casacchina con le perle dicevo 11,90 scontate 150 180 di seno 130 170 sui fianchi lunghezza 17,77 ragazze qui abbiamo l'ottanio il blu scuro il bianco il panna il nero e ancora jeans e ciclamino ragazze carinissime scontate a 11,90 vestibilità bella curviccia nel senso fino alla 58 anche 60 ramella nicoletta blu blu scura ok eccola per nicoletta ragazze 11,90 nera per katia schiavone eccola ragazze approfittate ciclamino jeans panna bianca nausica bianca e nera allora la nera la dobbiamo ordinare Laura Rocchi jeans curvi che cos'era il pantalone di prima ok nausica che è nera si nera devi ordinarla poi c'ho il giacomo donato blu scuro e nero da ordinare poi c'ho la brunella bechelli ortanio macellò riccardo zattini pure ortanio da ordinare è pedrali si esatto cadia marchese la vuole bianca invece sempre da ordinare pedrali stefi che dai l'acqua fresca bianca ragazze qua mi rimane ciclamino jeans e panna turchese e no turchese ottanio bianca nera e blu scura si possono ordinare non tantissimi pezzi perché non ce ne sono tantissimi in magazzino rosa apertura spalle eccola eccola crystal Brunella te l'abbiamo ordinata giusto Brunella le abbiamo ordinata o lei l'ha presa proprio Brunella ah no tu l'hai presa proprio Brunella rossi cesarina panna e ottanio e jeans allora panna e jeans ce l'ho ottanio gliela regaliamo eh si gliela regaliamo gliela regaliamo cesarina te la regaliamo salve voglio registrarmi mi fa piacere nome e cognome allora ragazze scrivete nome e cognome ma ce l'hai tu questo messaggio? eh si su whatsapp ah no metto non ci stanno qui Laura Rocchi pantaloni Pinocchietti si ce la ci sono basta che segui la diretta Laura si prima abbiamo fatto vedere questo modello qua eh allora a 11 euro e 90 bello leggerissimo 80-134 di vita 120-140 fianchi lunghezza 68 11 e 90 allora Giuseppina Casciato jeans small per un'amica Giuseppina confermami che poi dopo non ci ripensa perché con gli amici e parenti si prendono sempre le fregature esatto no nel senso che spesso uno compra per gli altri poi dice no non lo voglio più sei sicura Giuseppina? io lo dico per per te eh perché mi è capitato un sacco di volte guardate la misura delle maglie sono andate via comunque era erano grandi aspetta eh 150-180 seno 130-170 fianchi lunghezza 77 questa era la misura della maglia la T si è registrata Aneta Romanska con la K guardati Aneta Romanska vedi sotto Romanska ok io per gli amici non compro sono egoista no con la L è che mi è capitato tante volte Romanna 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 si ok allora ragazze andiamo avanti con il pantalone allora il pantalone dicevo è un misto eh vanno bene Daniela eh un misto di viscosa eh e la stenne c'è un pochino di eh poco poco di mmm io penso di sì Daniela queste sono molto grandi arrivano a 180 di seno poi ragazze voi dovete conoscere le vostre misure e eh così vi potete regolare meglio no Cesarì tranquilla cosa? se sono grandi per lei è 120 ma questa è viscosa scende scende morbida si scende giù a piombo come dico sempre io eh mi ordini ottagno per Daniela Stinco la casacca con le perle allora allora sono quelli che prendono eh per adesso no Anna si Rosse allora 80 140 di vita 120 160 fianchi lunghezza 93 nero blu verde militare e panna ragazze questa settimana sono scontati a 14 euro e 90 e diciamo sono gli ultimi giorni anche per quanto riguarda questo pantalone perché poi più avanti non penso che si troverà più cambieranno comunque i modelli Crystal nero ok Rossella lo vuole verde allora Manuela Ruggero blu per adesso possiamo ancora prendere gli ordini diciamo per questa settimana poi basta Giuseppina Casciato lo vuole nero e verde il pantalone non è aspetta un attimo Silvia perdonami vai vai e ora cominciano gli ordini allora questo vabbè poi mi faccio la descrizione ora poi partì Giuseppina Casciato nero e verde militare Casciato nero poi Serena Antonetti nero per adesso io non c'ho nulla prova ad aggiornare tutti appena puoi io non c'ho nient'altro qui mi rimane l'ultimo color panna ragazze l'ultimo rimasto allora intanto vado avanti allora ragazze completino super carino prezzo super top 17 e 90 ragazze guardate che bellino questo completo pantalone pinocchietto tre quarti mezzo colpaccio casacchina manica corta sopra completo scontatissimo 17 e 90 ragazze allora abbiamo a disposizione abbiamo a disposizione pochissimi pezzi 140 160 seme fianchi della casacca lunghezza casacca 75 per quanto riguarda il pinocchietto 80 150 di vita 140 160 fianchi lunghezza 76 ragazze ripeto completo 17 e 90 ne ho solo due neri guardate che belli bella la fantasia super comodi poi ne ho solo uno marrone bruciato è un completo francesca 17 e 90 maglia e pantalone 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 beige roberta cantinotti quello di prima robbie questo giusto poi beige allora due neri uno marrone scuro uno beige poi soltanto un completo rosso blu elettrico guardate che meraviglia e l'ultimo colore che è verde militare ragazze super belli 17 euro e 90 parliamo di pinocchietto con la sua casacca troppo carini carina anche la fantasia e poi super sconto rosso si francesca maniscalchi rosso per francesca maniscalchi ragazze 17 e 90 approfittate 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 Laura Rocchi scrive linea curvi di che cosa? è tutto curvi è tutto curvi che cosa Laura Rocchi curvi? no scusa questo è qui Mariangela D'Ambrosio metti scontato 19 90 allora si Laura ho detto adesso le misure sono è un completo curvi 140 160 seno e fianchi lunghezza della maglia 75 Mariangela D'Ambrosio poi di vita il pantalone fa da 80 150 140 160 fianti lunghezza del pinocchietto 76 confermo che è un completo curvi le misure sono belle grandi abbondanti Laura Rocchi marrone ecco la Laura allora allora ragazzi ancora due con il nero uno con il beige che qua all'interno ragazzi guardate che carino perché c'è anche il lilla il violetto e poi blu elettrico e verde militare ragazzi 17,92 pezzi allora vado con questo va ok 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 allora proseguo ragazze altro outfit questa volta andiamo su casacche nuovissime completamente colorate tutte a fantasia quindi le abbiamo numerate per riuscire a capirci allora il prezzo è di 14,90 ripeto queste sono nuove nuove le anche le fantasie poi sotto leggings in cotone super comodo ragazze con il pizzetto sotto Silvia gliel'abbiamo dati Silvia tranquilla manca da tanto tempo mancava questo leggings ragazzi in cotone con il pizzo sotto super comodo il prezzo è di 9,90 euro leopardata per Christel va benissimo eccola per Christel leopardata ragazze le misure sono 140 180 seno e fianchi lunghezza davanti 75 dietro 82 Christel ti va bene tranquilla fantasia numero 2 guardate che bellina fantasia numero 3 poi guardate anche questa che simpatica numero 4 numero 5 numero 6 e ancora e ancora guardate che belline queste la numero 7 con le margherite e la numero 8 con il blu elettrico molto molto carine non ti preoccupare Cristel tranquilla ragazze 14,90 euro super comode 140 180 seno e fianchi lunghezza lunghezza davanti 75 dietro 82 7 per Christel eccola Christel per te queste noti perché ci stanno troppe fantasiche se no mi mettevo un numero capito? ragazze due pezzi della numero 2 casacca 1 e quella colorata è quella colorata dice Pulco questa qui ah la numero 1 è finita Maria Rita perché è quella maculata ma non ce n'è ah no sai che mi viene il dubbio forse la maculata era l'unica che ce n'erano tante le altre erano quasi finite eh Maria Rita io ci provo a ordinarla ma non ti posso garantire nulla ok? segnala la numero 1 maculata vediamo se la troviamo ma non so sicura senti Maria Rita l'altra colorata intendi questa la numero 2 giusto? caligra 86 vediamo se c'è ma non ti so dire ciao Barbara allora fantasia 2 149 fantasia numero 3 eh ti segna anche Giuseppina Casciato che vuole la se no mi fai fare un attimo una foto così vediamo se mi rispondono è la 1 no? no ha detto no che è la 27 Fulco ha detto no no di no non ho capito però eh eh allora mi devi far capire Cristel la 3 allora Cristel la numero 3 eccola la numero 3 non vuole questa appunto eh Maria Rita allora mi devi dire i numeri io non ho capito quali ti devo dare allora Maria Rita la numero 1 è quella maculata vuoi solo quella? poi c'è la numero 2 che è questa ah forse questa la numero 4 la numero 5 non è che vuoi questa la numero 5 Maria Rita numero 6 e numero 8 ecco a quanti pezzi siamo? c'è anche Sara Annessi con la 1 allora io ho casciato Fulco se me la conferma e Sara Annessi ok prendo la maculata e la 5 perfetto l'avevo immaginato perché questa pure è colorata ecco la Maria Rita e la 1 stiamo provando io ho inviato la foto al magazzino vediamo che mi rispondono allora io intanto c'ho casciato allora adesso passo ai leggings ragazzi allora i leggings sono in cotone con il pizzo sotto prezzo 9,90 euro 80 da 80 di giro vita sono elasticizzati aderenti a un leggings 80 150 di vita da 100 a poco più di 150 fianchi lunghezza 90 ragazze queste diciamo che vi posso dire che va bene un po' a tutti perché sono belli elasticizzati allora verde mela beige poi blu scuro ottaglio grammi verde verde ok eccolo fatto poi questo è sempre ottaglio poi abbiamo color jeans vediamo uguali vabbè fuzia bianco verde gucci bordeaux bordeaux e si può ordinare nero lunedì mancava in magazzino ma è ordinabile ok ripeto ragazze bordeaux verde gucci bianco ciclamino color ottaglio blu scuro beige beige e verde mela 9 euro e 90 ragazze non mi arriva niente possibile che ho aggiornato adesso stiamo ferme così sì sì il modello è aderente ovviamente certo perché è un leggings in cotone chiaramente non vi posso dire che è largo crystal è uno nero uno verde gucci allora verde gucci ce l'ho qui il nero lo ordiniamo a crystal allora ragazze qui ci sono tanti colori 9 euro e 90 di che sono? da 80 a 150 di vita da 100 a poco più di 150 fianchi lunghezza 90 ok allora basta così ragazze mazza io pensavo che questi sarebbero andati a ruba sono stracomodi ok allora basta così ragazze mazza io pensavo che questi sarebbero andati a ruba allora andiamo avanti vado con questo niente le casacche immaculate non ci sono ragazze vediamo se c'è un'alternativa niente ragazze casacche immaculate che abbiamo ordinato poco fa non sono disponibili in magazzino mi dispiace ok quindi annullato l'ordine delle casacche immaculate ma io lo sapevo per quello adesso ragazze siamo sotto i saldi è un casino allora andiamo avanti ragazze altra novità canotta elastico dietro pizzo sopra questa volta ce l'abbiamo a tinta unita sono scontate a 12 euro e 90 12 e 90 e poi pantaloni super bello ragazze fresco in viscosa tutto fiorato molto carino a 16 euro e 90 ragazze consigliate noi questi li vendevamo a 24 e 90 adesso vi faccio vedere tutto allora partiamo dalla canotta allora ripeto il prezzo scontato è di 12 e 90 elastico dietro spallina completamente in pizzo non è regolabile però è elasticizzata morbida 110 140 di seno 160 fianchi lunghezza 75 aspettate un attimo aspettate un attimo allora ragazzi canotta beige per maria grazia viglietti sì allora beige eccola qua allora ragazze beige rossella costanzo la vuole grigia scusate l'ho presa un attimo da un po' di messaggi allora bianca blu elettrica bella pure blu poi lilla 12 e 90 ragazze approfittate viola tiffani ciclamino marrone bruciato verde smeraldo ma viene verde che è l'ottanio verde smeraldo non so perché mettono così celeste e poi grigia rosa antico turchese e rossa allora manuela ruggiero tiffani tiffani per manuela ruggiero nera si può ordinare ragazze viola ciclamino e smeraldo allora viola poi ciclamino e verde smeraldo eccolo qua per chi è? crista e l'olio eccolo qua fatto il prezzo è 12,90 ma noi la ruggiero tiffani ne abbiamo data vero? ok daniela valenti marrone bruciato eccola eccola qua perfetto perfetto giusidanna grigio e marrone grigio e marrone marrone no? no grigio e marrone? ok grigio si marrone la ordiniamo non c'è problema allora ragazze bianca blu elettrica nera tiffani viola marrone bruciato champagne ovvero beige ciclamino viola scuro insomma tanti colori 12,90 fatte macerata bianca va bene eccola ragazze 12,90 vi ripeto le misure allora 110,140 elastico dietro fianchi 140,160 lunghezza 75 vestono benissimo bianca blu elettrica guardate che carino anche celeste lilla rosa antico rossa e turchese ok 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 allora ci siamo? vado avanti ragazze proseguo con il pantalone il cane che ti ho ordinato ok io Katia non mi ricordo perdonami il cardigan Katia ah si si sta già di là da parte adesso mi sono ricordata tutto apposta allora ragazze pantalone 16,90 fresco leggerissimo 80,140 di vita 140 fianchi lunghezza 104 ragazze è una meraviglia carinissimo 16,90 è disponibile questo color salmone diciamo ciclamino poi poi in turchese jeans questo qui e grigio e blu ragazze 16,90 fino a 140 di vita 140 pianti lunghezza 104 molto molto carini anche questi soprattutto sono freschi freschi veramente leggeri ragazze biscosa un po' effetto seta ok molto molto leggeri modello sempre un po' largo a palazzo cintura compresa carini manuella roggeno blu blu ok eccolo ma questi sono proprio belli ragazze fini fini blu anche per maria rita glielo ordinavo oddio quello scuro maria rita ho questo più acceso allora scuro dice maria rita va benissimo ok 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 a crissi e le lavitati prima i due jeans vero? quelli quelli curti quindi due due ok ragazze procedo parla avanti con un'altra cosina vi ripeti i colori a maria rita silvia? si come no maria rita allora io ho questi colori questo che è un rosso salmone questo che io l'ho chiamato grigio nero perché comunque funge da nero bluet e poi questo ciclamino sono tutti belli maria rita 80-140 di vita 140 su piante lunghezza 104 il prezzo è 16,90 tessuto leggero leggero e adesso andiamo con un'altra piccola partita per quanto riguarda gli abiti gitani ragazze questi sono quelli con la manicuccia che vi copre vedete con l'elastico mi dai bluet e ciclamino ok e il blu lo confermiamo vero maria rita? sono tre pezzi quindi il blu scuro da ordinare e questi due ok allora ragazze abito gitano corpino elasticizzato favoloso manicuccia con l'elastico ma è aperta quindi super comoda ragazze guardate e questa settimana vi dico solo che è scontato a 13,90 mi sembrava di più 13,90 ragazze Laura Rocchi Corallo eccolo per te Laura allora ragazze 13,90 l'abito gitano questo è bellissimo lo potete indossare a partire da 80 di seno fino a 130 fianchi oltre i 180 lunghezza 120 ragazze questo dalla 42 fino alla 54 56 lo potete indossare fantasia numero 1 sono tutti diversi ragazze fantasia numero 2 13,90 solo qua in diretta e non ne ho altri numero 3 scusate numero 3 poi numero 4 guardate che meraviglia ragazzi immaginate li indossati quanto so belli poi numero 5 numero 5 numero 6 poi non combacia nessuno sono tutti diversi siamo arrivati al numero 7 e gli ultimi due eccoli qua il numero 8 e il numero 9 apparentemente sono tutti uguali in realtà differiscono soprattutto nella parte diciamo bassa quella della gonna ok castrichenna 7 allora io sciorlo sana vatacca ci cammino me lo puoi ordinare il pantalone di primati poi Manu castrichenna il 7 il numero 1 per Antonella Sguizer ok numero 3 per Franca in grami eccolo ragazze affrettatevi ripeto perché questi in magazzino non ce ne sono più Anna Rita fallo numero 4 ragazze altri 5 pezzi e poi finiti eh 8 per Francesca Soliani eccolo ultimi 4 pezzi vi faccio vedere quello che rimane il numero 2 ma la patacca gliel'abbiamo dato che era la patacca ah ok era il pantalone ciclamino mi sembra ma non ce l'hai lì non erano due oh c'è ciclamino ce l'ho e questo ciclamino? si no era quello più scuro no è questo è questo scusati quello è corallo c'era il giorno scusate che sono persa io allora ragazze vado con un riassunto di quello che rimane ovvero numero 2 numero 5 e poi numero 6 e l'ultimo che è il numero 9 ultimi 4 pezzi 13 euro e il 90 quello che c'è il corpino 13 e il 90 ragazze approfittate perché poi non me li chiedete in privato perché non ne ho più sì allora 80 130 di seno oltre 180 fianchi lunghezza 120 intanto vado a prendere quest'altro facciamo la novità allora ragazze qui invece andiamo già completamente sulla nuova collezione autunno autunno inverno 2024 25 sì perché questa fa parte 5 per Barbara Napolitano Napolitano numero 5 eccolo Barbara per te dicevo qui già parliamo di nuova Angela Presta leggo il 9 eccolo è arrivato adesso ok ragazze sono rimasti solo il numero 2 e il numero 6 ultimi due pezzi ok dopo di infiniti va bene Anna allora ragazze Antonella mi dice mi dai il 5 al posto dell'1 non ce l'ho più Antonella finiti sono rimasti solo questi due il 2 e il 6 non ce l'ho più quanto allora ragazze nuova collezione si va bene Patrizia dimmi D'Antonio Patrizia mi prendi il vestito lungo quello che c'ha la fibbietta in legno rosso si devo solo capire questo eccolo qua è questo vero Patrizia eccolo qua questo c'è ancora anche verde militare e biscotto il prezzo era 14,90 eh allora torniamo qui ragazze casacca prezzo prezzo novità 13,90 euro 120 140 seno 130 150 fianchi lunghezza 68 ragazze qui parliamo di nuova collezione il tessuto è leggero però già notate dai colori che sembrano un po' più invernali fantasia 1 fantasia 2 intanto la 1 va a Anna Perry ma si possono ordinare sono appena arrivati fantasia numero 2 poi guardate che bella anche la numero 3 e l'ultima che è la zebrata la numero 4 ragazze volevo farvi vedere che è elastica ok potete portarla a barchetta e poi riccia ha questa lavorazione riccia eh sulla manicuccia che è una manica 3 quarti ok il tessuto è leggero in realtà già adesso si può portare però chiaramente siamo già sulla nuova collezione allora poi poi anche qui abbiamo un pantalone che voi conoscete benissimo perché è un pantalone in viscosa che noi utilizziamo praticamente tutto l'anno la cosa bella però è che sono arrivati un sacco di colori nuovi questo pantalone è completamente in viscosa elasticizzata costa adesso in saldo a 15 euro e 90 ragazze top questo veramente è favoloso 15 e 90 e tanti colori nuovi 90 150 di vita 120 170 fianchi lunghezza 100 posso le vedere le due animali che è guarda allora fantasia 2 fantasia 3 e la 4 che è la zebrata ione 13 e 90 ciascuno allora lo fate per anche io ragazze marrone bruciato il pantalone 15 e 90 ciclamino o meglio fucsia ciclamino poi ottano mia 2 e zebrata allora la zebrata e la 2 per crystal ols ragazze queste si possono ordinare vorrei la 2 dice ione te la ordiniamo allora un attimo fammi vedere qual è sì sì ione te la ordiniamo non c'è problema allora ragazze ripeto 32 marrone bruciato ciclamino turchese poi panna verde bottiglia le le ho guardate bianco rosso e gli ultimi due colori sono il nero lo ricordo quale hai preso Anna perdonami portati Anna Giacomo Donato mi chiede sul pantalone quale sta bene dimaculata ma non lo so io non mi ricordo quale pantalone a meno che non parli di questo pantalone lì ci sta bene il marrone bruciato il pane il nero dipende quale prende arriviamo misure pantaloni ragazze 90 150 abbondante fianchi e vita fianchi dai 120 a oltre 160 170 lunghezza 100 marrone e nero per crystal marrone e nero eccoli qua marrone e nero ragazze questo anche se il modello è già conosciuto tutti i colori nuovissimi se ci fate caso alcuni già tendono all'autunale come colore poi non è che sono pesanti sono in viscosa però tendono già andare verso di là Emanuela turchese anche il turchese fateci caso un po' più scuretto leggermente più autunnale eh ma Cristina noi stiamo rallentando con le novità perché stiamo per chiudere per ferie ma i magazzini si stanno già organizzando e quando riapriremo il 26 agosto saremo pieni di novità eh allora ragazze marrone per giusitan fatto giusi allora ragazzi ciclamino effetto jeans nero rosso bianco panna e poi il marrone e il turchese che si possono ordinare il nero ce ne abbiamo un altro pezzo qua 90 fino a oltre 150 di vita 120 fino a oltre 160 170 ruggiero marrone lunghezza 100 marrone glielo ordiniamo a Manuela si dai Cristi c'hai due settimane di pausa per ammucchiare un po' di soldini dai ok ragazze vi ricordo le casacche a barca possiamo ancora ordinarle fino alla fine di questa settimana poi il pantalone uguale dopo la prossima settimana come avete capito lavoreremo lavoreremo solo con la merce presente in negozio posso vado avanti ok vado col completo ma ok ragazze un altro completo questo carinissimo Giuseppina ma intendi queste due c'è la quattro e la tre turchese aiutami a capire Giuseppina solo turchese oppure volevi l'altra maculata no io penso che voglia questa tutte e due dice le due animalie penso queste rimaste Giuseppina confermami se sono queste due quelle che vuoi il pantalone ho capito turchese effetto jeans è già fatto mi devi solo dire se questo è corretto vediamo un po' aspetta che forse non arrivano i messaggi pantalone marrone bruciato per Daniela Valenti l'avevamo letto no vero è arrivato ora? no io non ce l'ho proprio ok da ordinare forse è meglio che mi fai fare la foto dire ma perché cominciano ad essere un po' troppi sì allora ma che però me lo dovete ridire quanti pezzi sono marrone considerando Daniela io ce n'ho due allora se consideri Daniela come solo due? eh io c'ho uno qua scritto e quell'altro lo devo ancora scrivere Marrone Manuela Ruggero gliel'hai segnato? sì ok allora ci siamo e mi manca solo la risposta di Giuseppina se vanno bene le due casacche animalie queste qua eh non riesco a capire vabbè poi le appoggio un attimo qua vediamo un po' allora ragazzi proseguiamo con sì Paola allora le misure della casacche sono 120-140 seno 130-150 fianchi lunghezza lunghezza 60-68 in realtà queste sono morbidose vanno bene anche eh diciamo per una taglia piccola non ricordo l'altra ti dammene un attimo va Giuseppina ti faccio vedere i colori così mi dici i numeri attenzione allora allora guarda io c'ho e dove è la 1 mi devi dare la 1 allora Giuseppina attenzione ai numeri allora questa era la fantasia 1 ok come la chiamiamo questa noi di questa qua come la chiamavamo poi fantasia numero 2 ok e la numero 3 e la zebrata che è la 4 allora ok che puoi prendere la misura della manica per favore ma di che Anna Rita non te leggo proprio anche ho aggiornato eh io ho la 3 dice ah ce l'ho libera la 3 Paola Trincone eccola qua allora ma la 3 Paola Trincone queste sono le tue ok adesso mi serve la risposta di Giuseppina Casciato il numero che vuole Giuseppina che colore voleva Valenti Silvia scusa di che del pantalone marone ok ho instagram che non me non me fa salire i messaggi Trincone vuole anche la zebrata ce l'hai sempre libera si bella zebrata fatto Paola e mo' aspettiamo la risposta di Giuseppina Casciato allora ragazzi vado avanti invece questa volta con una cosa troppo carina ragazzi qui parliamo di un completo composto da casacca bella morbidosa fresca bella ampia e pantaloni ovetto ragazze favoloso taglio veramente quest'anno sta andando tantissimo il prezzo di questo completo è di soli 19,90 ma Giuseppina 1,4 quindi la 4 è la zebrata e la 1 è quella che chiamiamo mattonella tartaruga allora dimmi un po' si Laura allora zebra vuoi quella zebrata che è la numero 4 Laura Gallini e tartaruga e zebrata è la numero 4 no Anna Rita io non la leggo no non la leggiamo chi è che la vuole questa? allora ho chiesto vediamo Gesi mi fai vedere quali i rimasti ok Anna Rita adesso adesso ti leggo guarda è rimasto il numero 2 e il numero 6 eccoli qua Laura Gallini ti vuole anche lei la zebrata è la numero 4 ok eccoli Anna Rita se riesci a scrivere dimmi quale vuoi allora ritorniamo qui ragazze 9,90 euro al pezzo sarebbe 19,90 questo completo carinissimo pantalone ovetto casacca bella ampia sopra 130-150 seno 120-140 fianchi lunghezza 74 Anna Rita dice 6 cosa? 6 l'acido di Tano eccolo qua eccola Anna Rita poliestere poliestere viscosa e la stenna allora fino a 150 seno 140 fianchi lunghezza 74 il pantalone ovetto 70-130 di vita 140 fianchi lunghezza 100 si fatto Antonella grazie allora colore Tiffany questo bellissimo ciclamino molto intenso 19,90 tutto il completo ragazze tutto il completo poi panna eccolo qui guardate che bello anche panna e ancora celeste nero nero e lilla ragazze avete visto il mio ordine no Stefania ma dove l'hai scritto? instagram non mi passano i messaggi cadia macerata ciclamino ciclamino per cadia macerata ehm Stefania prova a scrivere qua su facebook perché Tiziana dice che su instagram non arrivano i messaggi non sta funzionando in questo momento prima funzionava ma ora no riscrivilo qua che proviamo a leggerti qui Laura Gallini completo Tiffany fatto Laura Antonella sguazzeri lo dobbiamo ordinare ciclamino il completo di completo vetto allora vediamo se c'è qualcos'altro Stefania prova a scrivere di nuovo qui su whatsapp su facebook ah eccolo pantalone marrone jeans ok quelli di prima ok Stefania adesso ti ho letto e ti prendiamo l'ordine Patrizia Natale costo dei completi 19,90 Patrizia panna celeste nero lilla e poi Tiffany e ciclamino che sono andati via e si possono ordinare posso riavere misure scusate mi hanno distratta di che cosa del completo Ione sì allora la casacca fa 130 150 seno fianchi 120 fino a 140 lunghezza della casacca 74 il pantalone invece 70 130 di vita 140 fianchi lunghezza 100 ok qui abbiamo quattro colori più il Tiffany e il ciclamino che sono andati via le rette di panna panna lilla nero e eh 19 marchese Katia gliel'abbiamo dato il completo ciclamino vero? sì no io sono macerata eh ma l'abbiamo ordinato mi sembra controlla un po' solo sguizer chi vuole? ma ripresa Katia ma non ce l'ho ah è vero hai ragione pure a me risultava solo sguizer si si ok te lo sei segnato vero ti? sì Anna Chimenza dice non vedo il mio ordine casacca 2 zebrata io non l'ho vista no io non l'ho vista Anna Chimenza e allora vedi qual è la 2 però? si è portata via? 2 zebrata scritto no la 2 e la zebrata che è la 4 Anna Chimenza se mi stai sentendo stiamo prendendo la prenotazione eh? comunque no non era apparso il tuo ordine hai fatto bene a scrivere in privato sennò sarebbe saltato la leopardata scura ok perfetto ci siamo ragazze se non ci sono altri ordini non esce neanche argionando eh vedi adesso è uscito non sia lista eccolo qua va bene ragazze io proseguo vado avanti con un'altra cosina allora questa volta andiamo su un attimo solo ragazze che prendo tutte queste cosine colorate allora eccoci qua ragazze proseguiamo altro giro di outfit questa volta abbiamo attenzione una canotta anche qui eh sono numerate perché ehm e considerate che neanche qua possiamo prendere gli ordini quindi affrettatevi sono in licra con il pizzetto sul collo e sul giro manica 12 euro e 90 molto molto carine e poi pinocchietto in licra abbinato nuovi colori a 8 euro e 90 allora andiamo con la canotta 120 120 170 seno 150 fino a oltre 180 fianchi lunghezza 74 allora 12 e 90 attenzione alle numerazioni ragazze fantasia numero 1 fantasia numero 2 ne ho due pezzi poi fantasia numero 3 numero 4 numero 5 numero 6 base blu e gli ultimi pezzi sono la numero 7 numero 8 e l'ultima che è la numero 9 ragazze affrettatevi perché qui non posso prendere ordini ok sulle colorate è difficilissimo allora 12 euro e 90 ripeto le misure 120 170 seno 150 190 fianchi lunghezza 74 stefania cosa è scritto completo nero caccia 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 ok eccolo per te caccia 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 cac Fatto, cacciate, la prenotiamo. Allora ragazzi, attenzione, delle canotte mi rimane la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, l'intensata, e l'ultima, la 1. Solo queste, ragazzi. Ultimi pezzi, la 1, no, Leoni Stefania dice no, no, era la 8. E allora è andata via. E no, è andata via, allora Stefania, dimmi se la vuoi lo stesso, la 9, la 8 è stata chiesta. Laura Gallini vuole la 1, ce l'abbiamo, eccola. Stefania, dici se la vuoi lo stesso, la 8, se no la rimetto a posto, la 9, se no la rimetto a posto, perché la 8 è stata prenotata, non c'è più. Dimmi tu Stefania. L'indocci d'acqua, la mamma sta a morire qui. Stefania, mi dici se la vuoi o no la 9, perché altrimenti la prende Laura Gallini. Vabbè, intanto leviamola, perché o Stefania o Laura. Allora, ragazzi, ultimi pezzi, numero 2, numero 3, numero 4, 5, 6 e l'ultima che è la 7. Leoni Stefania dice no, quindi va Laura Gallini. Ok. Ragazze, io vado avanti, se non ci so, prova ti aggiorna tu e a me non esce altro, quindi andiamo avanti. Allora, vado con il Pinocchietto, ragazze, Pinocchietto, modello palazzo, un po' morbido, un po' ampio, l'accettino, 8,90 euro, tessuto licra, vestibilità stracomodo, nuovi colori questa settimana. Allora, 90,150 di vita, 130, 180 fianchi, lunghezza 75, 8,90 euro, marrone bruciato, basilica koshock, 1,7 e canotta 4. Allora, la 1 non c'è, la 4, la 4 e la 7 sì, basilica, la 1 non c'è più. Se vuoi c'è la 2, basilica, la 1 non c'è. Non è che ti sbagli con questa? La 4 e la 7, intanto te l'abbiamo data, basilica. Allora, ragazze, marrone bruciato, rosa antico, nero. Pinocchietti, nero e marrone, ruggiero. Nero e marrone, questi si possono ordinare volendoti. Allora, nero e marrone, eccolo. Per chi? Ruggero. Ruggero, ok. Rosa antico, tiffani, fucsia, poi giallo, rosa acceso, un po' più acceso, blu scuro e color mattone. Allora, nero e marrone, Laura Gallini lascio la 1 e prendo la 9, allora. Allora, la 1 la puoi dare a Kosciok? La 1 voleva? Sì, Kosciok voleva la 1. Basilica, hai avuto la 1, la 4 e la 7, sei a posto. La 9, già l'ha presa. Già gliel'abbiamo data la 9, quella che ha lasciato. L'ha presa la 1? Sì, quella che aveva lasciato Leone Stefano. Allora, ragazze, Pinocchietto, 8,90 euro, ragazzi. In Ligra, colori nuovissimi. Va bene, Basilica. Basilica, ti ho dato l'ultima canotta e quindi ce ne hai 3. Eccolo qua. Sì, sì, Basilica l'ha messo anche Denisa. Ok, fatto tutto. Ci avete qualche altro messaggino? Ok, ragazzi, colori nuovi del Pinocchietto in Ligra. Giallo, mattone, rosa antico, Tiffany, tutti colori nuovissimi. Allora, Anna Pantaleo, nero e Fucsia. Allora, Fucsia ce l'ho, nero lo dobbiamo ordinare. Ragazzi, allora, è andato via. Blu scuro, nero. No, marrone. Ah no, marrone scuro, nero, Fucsia. Sì, Basilica, ti abbiamo dato la 1, 6 a posto, la 1, la 4 e la 7. E il vestito gitano, quindi ci hai avuto tutto. Ok, allora, ma vado con questa, che è un po' lunga. 27. Dimmelo, dimmelo. 8,90. Ah, non l'avevo visto. Ma i colori ce l'ho tutti? Ok. Allora, ragazze, attenzione. Qui abbiamo una promo veramente top. Qui parliamo di una casacca che costava più di 19,90. Perché? Perché è una casacca in cotone maxi. Carinissima, ragazze. Con tutti questi brillantini punti luce. Oggi è scontata 9,90 euro. Ragazze, è uno stock che abbiamo preso. Abbiamo diversi pezzi. Vestibilità favolosa. 150 fino a oltre 180. Seno e fianchi. Lunghezza 78. 9,90 euro. Jeans. Blu scura. Bianca. Ragazze, questa, ripeto, 100% cotone. 9,90 euro. Bianca. Verde lime. Verde militare. Poi. Panna. Lilla. Blu elettrico. E l'ultimo colore, che è il fucsia. Ragazze, ripeto, 100% cotone. Favolose. Vestibilità bella, comoda. Stra curvi. La simonetta marini. Verde militare. Verde militare. No, lime. Ah, verde lime. Lime ce l'hai lì, ok. Blu scuro, per Olvia Nico. Vabbè, me ne prendo. Bianca, per Katia Marchese e Rosanna Vatacca. Allora, blu scuro, per Olvia Nico. Katia Marchese e bianca. Bianca ce l'ho poche, eh? Sì. E bianca per Rosanna Vatacca. Ok, ragazze, bianca ce l'ho pochissimo, eh? Quindi, affrettatevi. Anna Pantaleo o Fucsia? Fucsia per Anna Pantaleo. Eh, anche Fucsia, sono solo tre pezzi. Ragazze, 9,90 euro. Verde militare pure... No, no, prende quella... Quella è stessa quella qua, eh? Ah, ok. Marchese anche lime. Anche lime ce l'hai lì, ok. Ragazze, 9,90 euro. Favolose, super comode. No, 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 mi ha comodato. Bianca. Oh, ce l'ho fatta! Bianca, ok? Eh, bianche sono finite, solo queste, eh? Allora, 160, 180, seno e fianchi, lunghezza 78, sono molto ampie, molto grandi, in 100% cotone, con tutte le applicazioni davanti, belle luminose. Super scontate, è uno stock che abbiamo preso a soli 9,90 euro. Lime, jeans, poi blu scura, l'ultima bianca, Daniele Stinco, lime, limone. Allora, eccola qui lime per Daniela Stinco, poi flutano pan, verde militare, e ancora lilla, blu elettrico, e fucsia. Ragazze, 9,90 euro, 100% cotone. E se poi semmai domani le facciamo rivedere, dimmi? Allora, mamma mia, io poi ho, aspetta, Maria Antonietta Brunetti, blu scura, poi Katia Gretti, la signora nuova, blu, ma blu non ce ne stanno più, e chi mi avevi detto questa? Allora, Brunetti, Maria Antonietta, Katia Greppi, poi Katia Marchese, lime, già gliel'avevamo data? Sì. Controlla un attimo? Sì, Katia Marchese è data? Ok, Daniela Stinco, fucsia, presa? No, è arrivata adesso. No, ok, fatto. Ragazze, bianca è l'ultima, eh. Ragazze, jeans, allora, limone mia, Daniela, chi è? No, è sempre Stinco. È sempre Stinco. Sì, sì, sono arrivati, ragazze. Ancora fucsia, blu elettrico, la... È bloccato? No, no, adesso riprendo. Ah, ok, lilla, verde militare, panna, lime, l'ultima bianca e jeans. Io non c'ho altro, andiamo avanti? Ok, non perdiamo tempo. Allora, ragazze, invece qui abbiamo ultimi pantaloncini, ultimi bermuda, in viscosa, l'effetto è quello stropicciato. Ok, allora, basilica kosher, lime, ok, eccolo, l'atto basilica. Allora, ragazze, dicevo, andiamo avanti. 90-160 di vita, 130-180 fianchi, lunghezza 75, pinocchietto sotto ginocchio, effetto stropicciato, potete fare anche il risvoltino, eccetera, scontato a 16,90 euro. Allora, si è registrata Simi, con la Y, sarebbe Simonetta Mercadante. Prendere la maglia verde militare, questa qua immagino. Simi, con la Y finale, eccolo qui. E si chiama? Simonetta Mercadante. Allora, Katia Macerata, Castrobella voleva lime. Chi? Chi è Castrobella? La voce salta. Ah, Castrichella voleva lime. Questa? Sì. Manu, ah, Castrichella lime, la voleva? Ce l'ho. L'ha presa lei? No, la lime. No. Manuela Castrichella, Manu, mi confermi che la vuoi lime? Non ero io, dice. Allora, ragazze, non so chi è. Allora, lasciamo qua, così vedrà. Allora, ragazze, proseguiamo con il pantaloncino, pinocchietto, sotto ginocchio, stropicciato, 16,90, vestibilità fino alla 60, 90, 160 di vita, 130, 180 fianchi, lunghezza 75, ultimi pezzi. Quindi, blu elettrico, color jeans, ciclamino, blu scuro, e gli ultimi sono il verde mela, il nero e il rosa chiaro. Ultimi, ragazze, e sono finiti anche questo modello qua, non ce ne sono più, ragazze. Ultimi, pinocchietti sotto ginocchio, diciamo una lunghezza 3 quarti, vedete anche l'effetto con il risvoltino, 16,90, ragazze. Ultimi, ultimi pezzi disponibili, vestibilità curvi, fino alla 60. Guarda che bei colori. Eh? I colori, che belli. Io sto a morire caldo, non ce la faccio più. Allora, vado avanti, se non ci stanno nuove renozioni, proseguo allora. Facciamo questo, va? Ok. Sì, sì, appresso. Allora, ragazze, proseguo con un altro completo, questa volta composto da casacca con elastico sotto. Vedete? Molto morbida, molto comoda, anzi, più che casacca direi canotta, perché vedete sotto come fa? e sopra ha questo volanna. Allora, il prezzo è di soli 11,90 euro, disponibile in vari colori, e pantaloni sotto in cotoni. Sembra un po' stile basilica, faccio anche la maglia lilla, va bene? Aspetta, la prendiamo da qua. Faccio una sola. Fatto basilica la maglia lilla. Ciao, Deborah. Allora, allora, ragazzi, andiamo con la casacca. Allora, casacca abbiamo detto 11,90 euro. Qual è? Stropicciato a corpo. Che devo fare? Simmi, la ragazza nuova, lo vuole jeans. Jeans? Con loro jeans. Eccolo qua. Si è calzata 52, sì. E poi lei aveva preso anche la maglia verde militare, eh? Simmi, confermi, no? Il pantaloncino, il pinocchietto jeans e la casacca verde militare. Allora, casacca invece questa qui con elastico sotto, 120, 170 seno, da 100 a 160 fianchi, lunghezza 73, 11 e 90. Queste sono super comode. È come se fossero canotte con sopra il volant. Verde militare, blu elettrico, color jeans, panna, blu scuro, biscotto, bianca e nera. Ragazze, ecco qui tutti i colori disponibili, soltanto, ripeto, soltanto, 11,90 euro. Ragazze, questi sono super comode. Allora, Graziella, Celli, maglia verde militare, blu jeans. Allora, jeans e verde militare, così, Graziella, Celli, mi sembra che sia così, no? Se ho letto bene. Giusto? Confermami, Graziella, se ho capito bene. I messaggi però non arrivano, coracce. Loro rispondono, ma se non arrivano... Allora, ciao ragazzi, vi abbandoniamo sotto la doccia. Ciao, Grì. Daniela Stinco Verde, questa qui del De Militare, ok. Vi la ordiniamo. Io la chiamo fascia sotto, sì, poi tu vedi. Manca metà blu. Allora ne vuole tre. Allora sono tre pezzi, Graziella. Quindi, scusami, allora sono, ricapitolando, sono la blu, come è, ma? Verde militare e jeans. Giusto, Graziella, sono tre. Ciao, Eleonora. Fammene un po' così, per sicurezza. Graziella Celli, mi dici se è corretto così, tre pezzi, jeans verde e blu scuro. Dimmi se sì o no, così non ci sbagliamo. No, quattro addirittura. E qual è la quarta, Graziella? Ah, pure nera. Nera, ma ho proprio letta. Eccola, Graziella. A posto. Moso quattro. Ci possiamo sbagliare. Nera, blu scura, jeans verde. A posto, fatto. Allora, ragazzi, qui mi rimane. Bianca, biscotto, panna e blu elettrico. Ultime quattro, undice e novanta. Poi, andiamo avanti col pantalone. Ragazzi, ripeto, il pantalone è un pantalone in cotone. Non so se è un 100% cotone. O se c'è anche un po' di elastenne. Vediamo un po', non ce vedo più. 95% cotone, 5% elastenne. 70-126 di vita, 136 sui fianchi, lunghezza 97. Quindi è una vestibilità media. Non grandissima, neanche piccola. Il prezzo è 17,90. Panna. Nero. Verde militare. Va bene, ok? Eccolo, Graziella. Fatto, Graziella. Allora, e color jeans. Quindi jeans verde militare, nero e panna. 17,90. Pantalone con cintura elasticizzata. Allora, gambaro, Paola. Sì. Nera. La casacca? O il pantalone? La casacca? No, no. Allora, gliela ordiniamo, va bene. Ragazzi, il pantalone invece è in cotone 17,90. Con cintura elastica. Allora, io andrei avanti. Ok. Allora. Aspetta, no. E questo. Allora. Si può avere ancora jeans alla casacca? Ci proviamo, Laura? Proviamo a ordinarla. Allora, Maria Grazia di Comune dice che si può vedere la casacca. Allora, Gallini gliela dovessi provare a ordinar jeans. Eccola qua, Maria Grazia blu scura, bianca, biscotto, panna. Ed è andata via. Nera, blu elettrico, verde militare e jeans. E costano 11,90. Allora, adesso invece passiamo a un abito, ragazze, super comodo. Sicuramente ve lo ricorderete. L'abbiamo fatto vedere. La vuole biscotto. Biscotto, ok? Eccola qua per te, Maria Grazia. Dicevo, sicuramente ve lo ricorderete, corpino elasticizzato, super comodo. Parte da 90 di seno e arriva a 150. Spallina regolabile, corpino completamente elasticizzato. Fianchi andiamo oltre i 180-190. Lunghezza 138. In più potete regolarla con la spallina. Ragazze, è in sconto a soli 14,90 euro. Questo è stra comodo. Ciclamino. Guardate che bello anche lilla. Poi. Rosso. Blu elettrico. E ancora. Verde militare. Questo va bene a chiunque, ragazzi, a partire da 90 di seno. Io, per esempio, sono 100. Già a me andrebbe benissimo. Bordeaux. Rosso Bordeaux. Guardate che meraviglia anche Tiffany. Troppo bello, ragazzi. Tiffany. E l'ultimo. Che è nero. Meravigliosi. Ragazzi, ripeto. Sono scontati a soli 14,90 euro. Allora, si può... Aspetta. Io, in spagnolo, posso avere un pantalone nero da 17? Come no? Eccolo qua, Ione. Ciao, Alicia. Olvia Nico Bordeaux. Eccolo, Olvia. Fatto. Che te lo piego così. Ragazzi, questi vestiti sono comodissimi. Angela Sana Tiffany. Brava, Angela. Bellissimo. Si possono anche ordinare, eh? Guardate che meraviglia anche questo colore. Tiffany anche per Anna Pantaleo da ordinare. Tite la 27, 14,90. È tipo viscosa, Barbara. Il tessuto preciso non lo so. Però l'effetto è viscosa. Non trovo il cartellino. Quattro di ce l'avevo. C'è del poliestere all'interno, eh, ragazze? Ve lo dico per correttezza. Per chi magari ha allergie. Allora. Ciclamino. Lilla. Rosso. Blu elettrico. Verde militare e nero. Soltanto sei colori. 90, 150 di sieno. 160 fino a oltre 180, 190 fianchi. Lunghezza 138. 14,90 euro. Andiamo con quest'altro. Allora, ragazzi, intanto ve li lascio qui e proseguo con un altro outfit. Dai che siamo quasi agli sgoccioli, eh. Allora. Qui vado con una canotta con le coppe tutta in licra. Fantasie miste, ragazze, prezzo scontato, 14,90 euro. Pantaloni sempre in licra con fiocchetto davanti. Prezzo scontato, 12,90 euro. Allora, vado con la canotta. Allora, la canotta mi fa da 80 fino a 126, perché c'è l'elastico, si allarga tantissimo, in più la spallina è regolabile. 80, 126 di sieno. 150, 180 fianchi. Lunghezza, nella parte più lunga, 84. Attenzione, perché qui ci sono le fantasie, non sono più ordinabili, eh. Quindi, fantasia 1. Fantasia numero 2. Fantasia numero 3. Ragazzi, questi sono spettacolari. Poi sembrano piccoline, ma sono entrate pure a Denise. Lei c'ha un'ottava di sé, ma... Numero 4, guardate che meraviglia. Numero 5. Numero 6. E le ultime sono, attenzione, la numero 7. Numero 8, bianco e nero. Numero 9. E l'ultima, che è la numero 10. Ragazze, tutti... Anna Pantaleo, 3. La 3, per Anna Pantaleo. Eccola per Anna, la numero 3. Ragazze, affrettatevi, perché non posso ordinarle. Nei magazzini sono finite. Quindi, chi prima arriva, meglio alloggia. Daniela Valenti, numero 8. Eccola, Daniela, per te. Io, Daniela, non la leggo proprio, manco aggiornando. È arrivato ora. No, no, ma manco aggiornando, non la leggo proprio. Ah, ok. Allora. Vediamo un attimo. Due volte, guarda. Claudia Tomezzoli, la numero 5. Eccola, Claudia, per te. Ragazze, vi faccio vedere quello che è rimasto. Numero 1, numero 2, numero 4, poi la numero 6, numero 7, e le ultime due che sono la 9. Anna Perry, 4. La 4 per Anna Perry, e ecco l'annuncia. Poi, la numero 9, e l'ultima che è la numero 10. Ultimi 6 pezzi, ragazze. Vi ricordo che non sono ordinabili, quindi dovete approfittare su queste che vedete qui. Allora, Tino, nuova registrazione, Michela Coluccia, sarebbe Michi e Vani su TikTok. Daniela Valenti è anche la nuova, dice. Eccola, Daniela. Michi e Vani. Ok. Allora, Valentina, Antonio e Bianco, mi fate ripetere i vestiti. Me ne dici il nome? Sì. Allora, Michela Coluccia. Su TikTok è Michi con la K e Vani. Allora, i vestiti lunghi, eccoli qua. Ciclamino, Villa, Rosso, Blu Elettrico, Verde Militare e Nero, 14 e 90. Da 90 a 150 di seno, oltre 180-190 fianchi, lunghezza 138. C'è qualche altra cosa, va? Valentina, fammi sapere se ne puoi uno. Degli abiti incendo. La vestibilità è ottima. Ma questi butteri cominciano anche a che si riferiscono ormai. Ok. Allora, vestito ciclamino per Barbara Napolitano. Va benissimo, Barbara, eccolo per te. Ok. Valentina, fammi sapere se anche tu ne puoi uno. C'è qualcosa nuova davanti? Ok. Allora, ragazzi, dobbiamo vedere il pantalone in licra. Il prezzo, abbiamo detto, che è 12,90. Va stringendo verso il fondo. 80-160 di vita. 130-180 fianchi. Lunghezza 103. Disponibili due pezzi ottano, un pezzo nero, uno blu elettrico, uno blu scuro, due pezzi color biscotto e l'ultimo verde militare. Ragazzi, verde militare è carinissimo, abbinato anche con questa casacca. Dimmi di. Patrizia, aspetta, anche io lo vorrei ciclamino. Ok, l'abito allora. Il vestito? Il vestito, questo qua. Ah, ok. Patrizia chi? E' da Antonio. Ok. Lo ordiniamo a Patrizia D'Antonio. Ok. A me non mi arriva niente qua su Facebook, ma siamo a posto? L'ultimo è Barbara Napolitano con il vestito ciclamino? Sì. Ok, va bene. Allora. Non ho scritto. Ah no, questo è mio. E ciclamino. Ciclamino. Ok. Allora, ragazze. Anna Giacomo Donato nero. Il pantalone è giusto? Ok. Eccolo qua. Ok. Io non ho messaggini, quindi vado avanti. Allora, ragazze. Il pantalone è biscotto, blu scuro, blu elettrico, ottagno e verde militare. 12,90 euro. Intanto vado avanti con un'altra cosina. Allora, ma vado con questo, va. Allora, altra cosina, ovvero canotta, super scontata, 8,90 euro, tutta sbasata sotto, super comoda, pure per andare al mare. Qualsiasi outfit si adatta perfettamente. E poi, nuovissimo pantaloncino bermuda, 11,90 euro. Adesso vi do le misure. Allora, la canotta, 8,90 euro, 120, 140 seno, fianchi siamo oltre i 170, 180, guardate quanto è ampia, lunghezza 75. Per delimitare, rossa, biscotto, blu scura, ragazze ripeto, 8,90 euro, bianca, rosa, jeans, panna. Sì, panna, e anche nera, 8,90, arriviamo a 140 circa sul seno, sui fianchi siamo stracomodi, lunghezza 75. 8,90 euro, questa canotta, a me sembra stanno che non arriva neanche un messaggino su Facebook. Ragazze, ma riuscite a scrivere su Facebook la pagina vecchia? Ah, ecco, adesso è arrivato il primo. Sonia Consoli, rossa e jeans. Allora, rossa e jeans. Eccoli qua per te, Sonia, 8,90 euro. Pensavo che si era bloccato. Allora, Francesca Cremonesi. È nostra Francesca Cremonesi, ha un lapsus. Cremonesi. Ah, sì, 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 è nostra e come. Scusami, Francesca. Bianca, nera e rosa. Allora, bianca, rosa e nera. Eccoli qua. Sì, arrivano, ok. Perfetto. Ok. Ragazzi, i colori bianco, nero, rosa che sono andati via a Paola Ingrima, gliela abbiniamo nera. Questa è quella di viscosa? Sì, esatto, 8,90 viscosa 41. Allora, ragazze, panna, blu scuro, biscotto, rosso, verde militare, poi bianca, rosa, rossa, jeans e nera. Possiamo ordinarli. Il prezzo è 8,90. 120, 140 comodo seno. Fianti siamo oltre i 170, insomma, bella polano. Allora, andiamo con il pantaloncino. Pantaloncino permuda. 11,90 euro. Pantalone lungo ottaglio, per favore. Certo, come no? Eccolo, Manu. Deborah Pisano, bianca, la vuole la canotta. Allora, andiamo con il pantaloncino, corto nero per cristale. Intanto vi mettiamo uno. Allora, 80, 150 di vita. 120 fino a oltre 160 fianchi. Lunghezza 57, 11,90 euro. Solo tre colori. Nero, verde militare e rosso. Sono gli ultimi tre colori. 11,90 euro. Sono i miei consoli nero. Nero, ok. Se c'è qualcun altro che vuole il nero, sono ordinabili. Sono solo questi tre colori, ma si possono ordinare. Ragazzi, anche rosso e verde sono carini, eh. Con il verde, per esempio, ci potete mettere anche la canotta, per esempio, panna. O addirittura anche verde, perché no? Sul rosso pure ci potete mettere il panna. Ma ci potete mettere il nero, il bianco. Guardate, anche il panna. Oppure anche il blu scuro, perché no? Con il rosso sta benissimo. Ok, vediamo un po'. Allora, se ci siamo... Io farei l'ultimo outfit, anzi, vorrei fare questa nuova. Allora, ragazze, altra novità, ovvero altra casacca che fa parte della nuova collezione autunnale. Non ho capito il prezzo della canotta. 8,90 euro, Edda. Ah, quella, questa qui, 8,90 euro, tinta unita. Il pantaloncino, 11,90 euro. Allora, casacca. Ragazze, questa ha tutti borchiettine, tutti punti luce. Meravigliosa, Manicuccia 3 quarti, nuova collezione autunnale. Il prezzo è 18,90. Guardate che meraviglia. Allora, abbiamo... Elena Crova, canotta blu scura e bianca. Allora, la blu scura ce l'ho. La bianca gliela dobbiamo ordinare. Fatto Elena. Allora, ragazzi. Canotta biscotto Giacomo Donato, ce l'hai? Chi ce l'ho? Eccola, ce l'ho pure un'altra biscotto. Eccola. Che gli manca, Crova, la bianca? È bianca, sì. Ok. Allora, intanto andiamo avanti. 120, 132 seno. 120, 140 fianchi. Lunghezza davanti 66, dietro 74. Ragazzi, questa è stupenda. Marrone, bianca. Poi, jeans verde militare. Tortora e nera. Guardate nera che spettacolo, ragazzi. Troppo belline, veramente. Allora, quelle con le punte, queste qua, Elda, 14,90. Allora, Lusitana marrone. Queste ovviamente si possono ordinare, ragazze. Meravigliose. 18,90 euro. Nuova collezione. Bianca, marrone andata via, ma la possiamo ordinare. Katia Marchese, nera. Eccola Katia. Bellissime queste, giuro. Belle, belle, belle. Guardate che luce. Allora, nera. Tortora. Verde militare. Jeans. Bianca e la marrone che è andata via, che possiamo prenotare in magazzino. 18,90. 132 seno. 140 fianchi. Lunghezza davanti, 66. Dietro, 74. Allora. Avete altro voi? Voi messaggini? Ragazze, se potete, prendetela. Guardate che meraviglia. Bellissima. Questa pure di sera. Troppo carina. Ma questa non va bene pure a noi, anche se è un po' morbida. È un po' grandina, però secondo me pure a noi. Stara che a me va bene, mi piacciono le cose larghine. Allora. Io intanto ve le lascio qui. Io mi vorrei quasi fermare. Che dite, ragazze? Crystal nera. Io ne spagnolo pure nera. Eccole qua, tutto è duro. Una per l'una, una per l'altra. Ragazze, se c'è qualcuno che vuole la nera, che è andata via, o la marrone, basta che ce lo dice e le prenotiamo. Non c'è problema. Ok? Io ne e crystal intanto gliel'abbiamo dato. Allora. Ragazze, io mi vorrei fermare qui, perché come anticipato all'inizio della diretta, cerchiamo, insomma, in questo periodo che fa così tanto caldo, siamo molto stanche di accorciare leggermente le dirette. Allora, ragazze, vi ricordo che domani siamo in diretta alle 20 e 30, quindi di sera, dopo cena. Giovedì, di nuovo di pomeriggio alle 16 e 30 e la settimana prossima, invece, attenzione, è l'ultima settimana di lavoro. Poi andremo in ferie 15 giorni, da domenica 11 a domenica 25 saremo chiusi. Quindi la settimana prossima faremo dirette di svendita tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, un paio d'ore ogni pomeriggio. E svendiamo tutto quello che abbiamo in negozio, facciamolo svuota tutto totale. E attenzione perché non pubblicheremo le foto la settimana prossima, ok? Lavoreremo solo con quello che è all'interno del negozio, perché poi chiaramente chiudiamo per ferie. Ragazze, io vi auguro una buona serata. Se volete aggiungere qualcosa di quello che avete visto nella diretta di oggi o in foto, mandateci lo screenshot sul numero WhatsApp e continuiamo a prendere i vostri ordini. Intanto vi saluto e ci vediamo domani sera 20 e 30 in diretta. Ciao ragazze, un bacione e buona serata. Ciao.